Di sviluppo questo Master Reggio Grappi, la città di Reggio Grappi ha aderito all'invito proprio a far parte fattiva di questo Master? Sì, la città metropolitana conferma la sinergia che in città si è instaurata da tre anni e mezzo a questa parte insieme all'Università Mediterranea e insieme ai suoi dipartimenti. In questo caso rispetto alla valorizzazione del Bergamotto, un percorso che ci deve vedere tutti impegnati, la città metropolitana partecipa a questo Master con un contributo di 55.000 euro, 30 a valere sul 2018, 25 re imputati nei residui del bilancio 2017, partecipa anche con sei suoi funzionari individuati a seguito di una procedura interna. Questo perché le istituzioni devono assumere sulle loro spalle la responsabilità di valorizzare questo prodotto, farsi parte attiva, ma soprattutto coinvolgere le associazioni di categoria, i produttori, i commercianti, tutti coloro che hanno qualcosa da dirci, hanno qualcosa da raccontare rispetto all'evoluzione di questo prezioso frutto, di questa unicità, di questa specificità della città di Reggio Calabria, che devo dire quantomeno è ritornata sul dibattito politico negli ultimi anni. e questo naturalmente ci inorgoglisce, ci fa capire che si sta riuscendo a creare una rete di contatti, una rete di rapporti, ma soprattutto che si sta valorizzando anche da un punto di vista di sviluppo economico, quella che è una eccellenza, una peculiarità, un'unicità del nostro territorio.